Ho bisogno di un'informazione. Buongiorno, signore. Scusi se la disturbo. Ho bisogno di un'informazione. Lei non mi disturba affatto, signorina. Vorrei sapere in che città siamo. Sono appena arrivata in macchina. Siamo a Scilla, una bellissima città sul mare. La gente viene da tutto il mondo per il nostro mare ed il nostro ottimo pesce. Benvenuta! La ringrazio molto, signore. Di dov'è lei? Sono canadese. Vengo da Montreal. Parlo abbastanza bene italiano, ma faccio fatica a dare del lei. Allora dammi del tu. Non c'è problema. Che lavoro fai a Montreal? Faccio l'insegnante. Insegno storia e geografia. Allora, forse, desideri anche informazioni sui monumenti da visitare. Vai all'ufficio turistico qui di fronte. Hanno des plans in inglese e in francese. Grazie mille, signor vigile. Lei è molto gentile. No, scusa. Tu sei molto gentile. Ti ringrazio. Non c'è di che. Grazie a te. Lei di dov'è? Sono canadese. Vengo da Montreal. Scusi, ho bisogno di un'informazione. Che informazione desidera? La gente viene da tutto il mondo per il nostro mare.